a tutti voi che siete in ascolto buona giornata siamo qui di nuovo amici per leggere i giornali iniziare in questo modo la giornata oggi è giovedì 3 marzo 2022 il sole è sorto alle 6 e 40 e tramonterà oggi pomeriggio alle ore 18 vediamo chi è il santo sotto il quale dobbiamo mettere la nostra protezione nella giornata di oggi e troviamo santa cunegonda santa cunegonda imperatrice nacque in lussemburgo fu di famiglia nobile fu data in sposa a enrico duca di baviera che divenne poi imperatore alla morte di ottone terzo imperatore del sacro romano impero fece voto di castità anche durante il matrimonio consenziente il marito diffamata poi per dimostrare la sua innocenza camminò a piedi scalzi sui carboni ardenti senza scottarsi e il marito ovviamente la perdonò insomma fu consapevole che erano solo diffamazioni dopo la morte dell'imperatore si ritirò in convento e visse una vita santa ecco santa cunegonda vediamo le previsioni del tempo oggi il tempo si mantiene stabile tempo stabile e asciutto cieli al più poco nuvolosi le massime sono in rialzo fino a 11 12 gradi 20 deboli variabili il mare è poco mosso dunque un tempo che si sta rimettendo dopo le perturbazioni dello scorso fine settimana e per quanto riguarda le notizie invece apriamo la pagina del resto del carlino sulla pagina di fano questa mattina e vediamo che l'apertura è dedicata alle tutte le azioni di solidarietà che si stanno compiendo in favore dell'ucraina ucraina aset raddoppia la solidarietà che cosa significa significa che tutti i farmaci che una persona può comprare per donarle a profughi ai profughi ucraini nelle farmacie comunali gestiti dall'aset verranno raddoppiate dall'aset stessa dona un farmaco questo è l'appello l'altro lo regaliamo è partita la raccolta dei prodotti di primo soccorso nei presidi gestiti dalla società fino all'otto marzo si potranno acquistare garze bende cerotti tachipirine la protezione civile poi curerà la distribuzione una organizzazione che si sta consolidando e sta diventando veramente importante la raccolta dei prodotti farmaceutici dovrebbe durare sei giorni ma se la guerra poi continuerà l'iniziativa potrebbe essere anche allungata o ripetuta la raccolta farmaci si aggiunge poi alle tante iniziative che in questi giorni stanno fiorendo nel territorio anche i cittadini singoli cittadini stanno facendo la loro parte sia con la raccolta di cibo e di indumenti sia con gli alloggi da martedì sono già una decina gli alloggi messi a disposizione gratuitamente dai fanesi per l'ospitalità dei profughi in arrivo dall'ucraina insomma un clima di solidarietà veramente encomiabile molto molto lontano dal clima di ripulsione diciamo così dei primi profughi che giungevano dall'africa tanti anni fa a fano ci sono 200 badanti ucraine un pilastro essenziale del nostro sistema del welfare del welfare ovvero del sistema assistenziale ne parla alberto alesi che è il responsabile provinciale dell'acli il patronato abbiamo contattato le lavoratrici metteremo a disposizione ha detto il sindacalista i nostri servizi vediamo anche qualche dato secondo il patronato acli a fano sono presenti 200 badanti ucraine il secondo gruppo più numeroso tra i paesi extraeuropei dopo le moldave che contano circa 300 lavoratrici tra le assistenti familiari la comunità più corposa è quella proveniente però dalla romania paese dell'unione europea con 499 lavoratrici pari al 19,79 per cento il giornale poi fa un report sull'attività del reparto di oculistica del santa croce l'oculistica guarda oltre il covid ma siamo sotto di 800 interventi rispetto al periodo pre covid parla il responsabile del reparto che è il dottor giacomo pellegrini il quale fa il punto sugli ultimi due anni di attività dall'inizio della pandemia ebbene sono stati anni difficili un reparto che non è stato coinvolto dagli stravolgimenti logistici legati al covid rimanendo sempre nella sua sede storica però però insomma le difficoltà non sono mancate appena scoppiata la pandemia nel marzo del 2020 il reparto è stato fermo per circa 30 giorni molti medici e infermieri si sono positivizzati sono diventanti positivi al covid il covid ha contagiato lo stesso primario lo stesso primario giacomo pellegrini e poi piano piano il reparto è riuscito a incrementare l'attività ma ancora però non si è riusciti a raggiungere l'attività pre covid e quindi mancano ancora 800 interventi annui rispetto alla cifra che si faceva in passato comunque un reparto che cresce un reparto importante perché poi il reparto colistica è erede di una tradizione operatoria una tradizione medica che risale dal che proviene dal passato bastione sangallo addio a rischio l'apertura estiva l'associazione che gestisce la struttura sembra voler rinunciare all'attività e riconsegna il bastione all'amministrazione comunale una decisione sofferta a cui l'associazione di volontariato è giunta proprio per mancanza di personale e quindi il comune dovrà eventualmente rifare il bando per riassegnare questo bellissimo spazio che può servire per tante tante iniziative un articolo di cronaca a fondo pagina rapinò non a giudizio nipote terribile ma l'avvocato il mio assistito ha cambiato vita l'anziana stessa lo testimonierà aveva aggredito la nonna e dopo averle strappato di mano le chiavi dell'auto un po di soldi dalla borsa si era impossessato della macchina ed era fuggito il mezzo poi era stato ritrovato a mantua succedeva questo nelle 2017 e ieri a distanza di cinque anni quel nipote un 26enne di origini straniere ma residente a fano è stato rinviato a giudizio per rapina è stato poi difeso dall'avvocato il quale ha detto che quei tempi era in preda agli stupefacenti poi il ragazzo si è rinsavito ora si è iscritto all'università sta studiando insomma rimesso la testa a posto e la nonna sembra disposta a perdonarlo non mi ricandido ma basta con sebastianelli parla così maurizio cionna che a terre roveresche sfidò l'attuale sindaco nel 2017 ora fa un passo indietro quindi non si ripresenterà nelle prossime edizioni ma boccia in toto l'attuale amministrazione sto lavorando a un'alternativa forte ha dichiarato non si governa secondo la logica dell'uomo solo al comando occorre più condivisione opporre dunque un pool di persone a urbino la produzione del grano i prezzi alle stelle lo evidenziano lanciando un loro allarme il sindaco maurizio gambini e l'agricoltore gianalberto luzzi che fu sindaco a suo tempo di sant'angelo invado rincari incredibili busetto il biologico però tiene che cosa sta accadendo in agricoltura sta accadendo che il prezzo del grano sembra aumentare anzi non sembra aumenta il che potrebbe invece essere un elemento positivo in realtà non lo è perché contemporaneamente al prezzo del grano aumenta anche tutta la materia prima tutto quello che serve per produrre il cereale e questo fa sì che il margine di guadagno degli agricoltori sia sempre lo stesso quindi molto poco oppure sia sottigli sempre di più un appello per quanto riguarda la crisi dell'agricoltura nel nostro territorio dall'urbinate il caso ucraina costituzionalisti a confronto per quanto riguarda l'università si dibatte anche questo e vediamo sulla pagina di pesaro del resto del carlino di che cosa si parla si parla di una scoperta di una scoperta perché tra le bellissime ville che sorgono sul monte san bartolo a nord di pesaro ce n'è una particolare pensate appartiene alla alexei novalni oppositore di putin addirittura e no scusate il blog di alexei novalni oppositore di putin cita la lussuosa residenza pesarese ed è del figlio di valentina matvienco chi è valentina matvienco ebbene la presidente del consiglio della federazione russa la terza carica di questo grande paese sorge su un terreno di 26 ettari e da una piscina di almeno 20 metri una villa lussuosissima molto molto bella ebbene valentina matvienco è venuta molte volte a pesaro lì ci abita il figlio sergei e ci abita di almeno 12 anni da quando la zarina tra virgolette acquistò sul san bartolo la prestigiosa villa rudas che era appartenuta all'ex manager di pavarotti insomma veramente un cambio di proprietà di personaggi prestigiosi e ora questa villa rimane lì insomma è di un oligarca ovviamente russo e non so che cosa accadrà mamme ucraina rifugiate in città con i figli i nostri mariti sono la a caccia di spie russe si sosseguono dunque le testimonianze di persone che giungono da quel paese che sono anche residenti nel nostro territorio per quanto riguarda per quanto accade nel loro paese i bombardamenti nella notte le fughe precipitose l'addio straziante agli uomini che hanno deciso di restare a pattugliare le strade e poi abbiamo una testimonianza si tratta della nonna eleonora timocenco che abita da anni a pesaro e che ha mandato due auto a prelevare figli e nipoti pesaresi aprite le case questo è l'appello che viene lanciato e ieri c'è stato anche un vertice in prefettura per quanto riguarda l'alloggio di queste persone che giungeranno dall'ucraina 80 alloggi per una prima accoglienza dei profughi sono stati già definiti ed è quanto emerso ieri durante l'incontro tra il prefetto Ricciardi e i sindaci dei comuni più coinvolti più popolosi più chiamati a sostenere l'emergenza umanitaria a dare una prima disponibilità sono stati comuni di pesaro urbino vallefoglia mondolfo colli al metauro fossombrone cagli e fermignano ancora sui giornali vediamo come il resto del calino si occupi ancora della questione dei parcheggi nei pressi della stezione esposto del consorzio porta capocina che oggi chiuderà la sua area di sosta ma il comune ha già aperto l'altra per i pendolari vedete appunto l'area pronta è disponibile ad accogliere altre auto e qua invece l'area di porta capocina ex amga chiesti al comune 35 milioni di anni i proprietari ricorrono al consiglio di stato contro una parte della sentenza del tar che consentiva la bonifica naturale ed è scontro totale tra i proprietari dell'area l'amministrazione comunale i proprietari dell'area rivendicano il diritto di costruire degli appartamenti che poi non è stato possibile realizzare perché nel sottosuolo si è trovato terreno inquinato e qui appunto la richiesta dei danni nel 2000 si decise la permuta dell'area con terreni verdi dal mirafiore che erano di varie solcetà e questo è considerato il peccato originale e parliamo anche della capitale della cultura è una aspettativa che pesaro sta così considerando perché oggi è un giorno poi particolare oggi l'audizione delle dieci città candidate pesaro è sostenuta la candidatura di pesaro è sostenuta da dan da juan diego florence il noto cantante che ha avuto un grande successo al roff e poi da cecilia gasdia e giuliano vangi il grande scultore noto in tutto il mondo pesaro scende in campo con i big oggi avrà un'ora per parlare del suo progetto culturale col quale appunto aspira alla candidatura di capitale nazionale della cultura e qui vediamo l'assessore alla bellezza daniele vimini insomma che poi è un po il deux ex macchina di tutto il progetto passiamo alla cronaca vende la spiaggia al figlio finisce a giudizio la titolare della concessione risultava l'anziana madre di cui lui era amministratore di sostegno e non poteva fare questa azione denuncia degli altri eredi che chiedono i danni una spiaggia dunque che scotta si trova a fosso sei ore ed è al centro di uno scontro familiare un chilo di marijuana dalla spagna ordinata via web giovane scoperto è arrestato aveva ideato la via più facile per rifornirsi di droga quella appunto della dell'invio tramite il computer e bene però gli inquirenti sono stati più veloci e lo hanno beccato lo hanno fermato vediamo poi ancora sul resto del carlino novavax fatto è stata la nostra svolta in 26 ieri sono sono presentati all'ex ristò di pesaro per l'esordio del vaccino a base proteica sono 176 prenotati complessivi per i prossimi giorni in tanti si sono presentati incuriositi da questa novità dunque ieri mattina nel lab vaccinale dell'ex ristò si è dato il via alle prime 26 somministrazioni su 177 totali di quel siero a base proteica che pare essere maggiormente accettato da coloro che fino ad oggi hanno atteso per vicinarsi per vaccinarsi contro il covid a questo punto diamo un'occhiata anche al corriere adriatico per vedere qual è l'apertura sulla pagina di fano e vediamo che si parla delle istanze che vengono lanciate dagli autisti del servizio di trasporto pubblico subito l'interquartieri e le rotatorie al codma gli autisti di ami chiedono anche l'asfaltatura delle vie campanella e toniolo ci sono punti molto pericolosi della viabilità fanese che devono essere aggiustati e soprattutto non solo in croci ma anche tratti di strada dove l'asfaltatura dove il superficie stradale è completamente sconnessa e questo crea problemi particolari agli autobus del trasporto pubblico ma pensate che cosa devono pensare gli autisti delle autoambulanze con magari malati a bordo dopo la protesta approvato il regolamento il comitato dei familiari della casa dontonucci dicono ora può interagire formalmente con la struttura il nostro comitato un regolamento che è stato approvato dopo un anno di attesa sono state poi elevate diverse proteste ora finalmente è entrato in vigore grazie all'approvazione da parte della giunta e il comitato è autorizzato a collaborare affinché questa struttura dove che dà un ricovero a circa una trentina di anziani possa essere gestita nel migliore dei modi 200 badanti ucraine così la guerra entra in casa la solidarietà delle acli assistenza alle pratiche per i ricongiungimenti familiari anche il sindacato si attiva per sostenere coloro che si trovano in difficoltà in questo articolo di fondopagina firmato da andrea maduzzi vediamo come si sa risolvendo la questione della posizione del tappeto del judo il tatami nel ballatoio della nuova palestra della scuola di cucurano carrara il soppalco è stato dichiarato agibile risolta l'avvertenza con il judo club dell'istituto appunto di carrara e poi qui abbiamo invece una presa di posizione del dirigente del settore urbanistica del comune di fano adriano giangolini per quanto riguarda le contro deduzioni alle osservazioni che sono state presentate alla variante che limita al 20 per cento la realizzazione degli appartamenti al di sotto dei 54 metri quadri nel complesso delle ristrutturazioni degli edifici insomma se dalla demolizione di una velletta si costruiscono dieci appartamenti solo due possono essere realizzati al di sotto dei 54 metri quadrati e il dirigente giangolini illustra le motivazioni con le quali si è risposto alle osservazioni presentate alla variante fratelli d'italia ospita l'assessore baldelli il quale ha comunicato che a fano sono stati dati 23 milioni per la sanità illustrati gli interventi per il santa croce e l'ospice pediatrico notizie che ormai sono state diffuse anche in precedenza a fossombrone si restaura il palazzo comunale tetto e facciata da restaurare lavori urgenti al palazzo stanziati dalla giunta 350 mila euro da preoccupazione in particolare la copertura parzialmente puntellata si tratta di un edificio opera dell'architetto e ingegnere felsineo felippo terzi che operò nel xvi secolo l'edificio si caratterizza per un bel aspetto una bella facciata abbugnato in arenaria e il portico a quattro arcate con alti pilastri un bel edificio del 1500 a isola del piano si parla di agricoltura biologica isola del piano un po il centro dell'agricoltura biologica del nostro territorio e si parla di tecnologie per l'efficienza a farlo è francesco toriani che presenta l'incontro di domani per ridurre i costi e a crescere le rese di azienda a cantiano si era perso nella neve del catria salvato dall'aeronautica militare si tratta di un giovane che è stato individuato e stato nel buio dall'elicottero dopo l'allarma ai volontari del secorso alpino per fortuna aveva il cellulare col quale ha potuto dare l'allarme si tratta di un giovane che aveva compiuto una escursione nel comprensorio del monte catria partito da isola fossara si era indirizzato nella zona del corno e poi era finito così senza saperlo negli itinerari alpinistici e lì si era trovato in difficoltà per fortuna è stato soccorso poi con l'elicottero e vediamo anche la pagina di senigallia in otto a giudizio per inondazione alluvione via tutti gli altri reati si tratta di personalità conosciute a processo anche l'ex sindaco mangialardi e l'ex sindaca angeloni molte accuse però sono accadute per prescrizione doppia veste per il comune riviati a giudizio per inondazione colposa otto imputati per l'alluvione del 3 maggio del 2014 quando lo straripamento del fiume misa causò quattro morti e danni per circa 180 milioni di euro cadono però le accuse per il percorri misa il resto è tutto prescritto inizierà il nuovo giugno il processo a carico appunto degli imputati a questo punto diamo anche un'occhiata alla pagina di pesaro del corriere adriatico dove si parla della capitale della cultura un'ora di tempo per giocarci tutto ha detto daniele vimini oggi pomeriggio dal conservatorio l'audizione del team pesarese e tutti noi facciamo il tifo ovviamente perché anche pesaro riesca a vincere questo concorso che poi riverserà i suoi benefici su tutto il territorio conservatorio il restyling si avvia con una riconferma la presidenza bisse di salvatore giordano accompagnerà il triennio dei lavori e qui vediamo una foto del cortile del conservatorio con la statua di rossini e di salvatore giordano direttore della ex direttore della assindustria pronti ad accogliere trovati i primi 80 posti l'articolo che riguarda la riunione che si è svolta ieri in prefettura per assistere gli ucraini che giungeranno da quel paese martoriato centralino bollente il cuore dei pesaresi batte di generosità nel primo giorno di sos ucraina arrivate alla protezione civile oltre 70 telefonate non si offre solo aiuto c'è chi cerca un letto per i parenti che stanno arrivando quindi anche una sistemazione logistica e poi ex amga un risarcimento mostre dal comune vogliamo 35 milioni legali dell'amministrazione richiesta onorosissima i privati si rivolgono al consiglio di stato ne abbiamo già parlato questa è l'area ancora così allo stato brado dobbiamo dire l'area dell'ex amga che l'amministrazione vuole trasformare in un parco speriamo che questa vicenda si concluda al più presto con esito positivo per entrambe le parti e a proposito di parchi vediamo che si parla ancora del miralfiore e dell'opera di taglio che è stata fatta in maniera piuttosto radicale appunto nell'area verde dai merli agli scriccioli sfrattati tutti i danni all'abitat del parco anche la lipu contro i tagli al miralfiore la lega appunto ambientalista altre specie scacciate per il disboscamento lungo il foglia insomma un taglio così drastico della vegetazione crea anche problemi alla fauna che la popola ordina la droga tramite internet dopo la consegna scatta l'arresto i carabinieri scoprono un ventenne in casa sequestrato un chilo di ascis proveniente dalla spagna concludiamo la pagina con urbino la pagina del corriere adriatico con urbino i conti sanitari modificata ne parla l'assessore al bilancio giuseppina maffei e azzerata la tassa su rifiuti per gli immobili senza servizi la risposta a santi e rosati cantieri aperti e investimenti evasione fiscale recuperati 262 mila euro è un po il contenuto di una intervista che eugenio gullini ha fatto l'assessore al bilancio giuseppina maffei e siamo in conclusione vi segnalo la bella vittoria per lo sport che ha caratterizzato la partita svolta ieri dal fano calcio fano vedi i fantasmi poi ribalta il castelnuovo vedi i fantasmi perché all'inizio di partita passa subito in svantaggio con un autorete ma poi si rimedia e vince la partita per 2 a 1 alma juventus 2 castelnuovo vomano 1 ecco questa notizia concludiamo la nostra rassegna stampa massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 e per le notizie del giorno a occhio la notizia di questa sera alle ore 20 e 30 condotto da simona zonghetti questo è veramente tutto a risentirci